E' da una ventina d'anni che sono più o meno all'interno del mercato dei fiori come rappresentante della floristica e quindi in questi ultimi anni mi è stato dato l'incarico assieme alla collega Jessica Tua di rappresentare il mercato e soprattutto la floricoltura nostra locale al festival. Noi tutte le sere andiamo all'Ariston, arriviamo abbastanza presto di modo che possiamo disporre nel nostro backstage i fiori e dopodiché controlliamo sempre come sono abbigliati i cantanti, gli artisti e decidiamo durante la loro esibizione che tipo di bouquet è più appropriato a uno all'altro e poi li diamo al direttore di scena che poi lo porge ad Amadeus. In tutti questi anni comunque sono successe anche delle cose interessanti, carine, però una che mi è rimasta impressa è stata ovviamente l'edizione del 2021 del festival quando in pieno covid ovviamente la platea senza pubblico quindi è una cosa abbastanza strana ma anche i vincitori quando sono usciti dall'Ariston ovviamente non sono stati accolti da tutto quel pubblico che di solito si trova all'esterno dell'Ariston ma in quella sera lì non c'era proprio nessuno quindi io e Jessica ci siamo fermate e abbiamo detto ma non possiamo farli uscire senza niente non possiamo, poveri ragazzi, sono giovani, hanno bisogno di un po' di festa e noi siamo rimaste lì fino alle tre e mezza di mattina ad aspettare che uscissero per dargli un mazzo di fiori, l'ultimo mazzo di fiori e loro erano molto molto felici che ci fossimo ad aspettarli insomma è stata una bella esperienza. Sono qui grazie al fatto che ho vinto il concorso per il bouquet del festival di Sanremo e che è una gara che si è tenuta qui a Villa Urmond a Sanremo e ho vinto il primo premio assoluto sia per la prima prova che per la seconda prova vedere il mio primo bouquet sul palco dell'Ariston è stata un'emozione fantastica il tuo bouquet era quello di Anna Ozza, era giallo e bianco è stata veramente una bella emozione, una soddisfazione grande qui mi sto veramente divertendo con i fiori e il mio regno, veramente i fiori sono bellissimi, sono speciali, colori fantastici, materia prima di ottima qualità grazie al mercato dei fiori di Sanremo, grazie, grazie, grazie è tutto perfetto grazie a tutti